Donne che aiutano le donne per ascoltare, consigliare, indirizzare. Aperto lo sportello d'ascolto della Cisla Retina, fortemente voluto dal coordinamento al femminile del sindacato. Saremo qui proprio per dare un'indicazione a queste persone che magari non hanno il tempo di andare a scegliere e decidere quali sono i percorsi che ci sono nel territorio, perché spesso non si conoscono nemmeno tutte quelle attività di supporto che lo Stato, le ASL e i comuni mettono in circolo, per cui daremo anche indicazioni su questi percorsi e in più l'ascolto di due persone professionalmente molto preparate che potranno anche seguire queste persone direttamente nelle loro attività. Lo sportello sarà aperto dal prossimo 8 di marzo all'interno dei locali della Cisla di Arezzo in Viale Michelangelo e sarà a disposizione per due giorni a settimana. Allora, noi il nostro progetto abbiamo investito come coordinamento donno e come categoria con due competenze specifiche, una pedagogista clinica che comunque sarà a disposizione per la fragilità dei minori e una psicologa che parlerà con le famiglie direttamente della non autosufficienza, quindi della parte più anziana, quindi consiglierà dal percorso dove rivolgersi o anche alla badante di riferimento, perché noi in concomitanza con questo progetto dal 24 di febbraio parte un corso di assistente familiare dove va a strutturare la badante un po' più specifica in modo che quando a casa ci sono delle realtà da seguire che hanno bisogno di un sostegno sanitario diverso, la badante sicuramente ha una preparazione formativa perché è un corso riconosciuto a ragione toscana che va a riqualificare degli elementi che in casa sono indispensabili. Quindi il nostro supporto è legato sia al lavoro e comunque ai percorsi da seguire per avere comunque delle specifiche per poter comunque nel mondo del lavoro poter giostrare anche la famiglia. Da quest'altra parte è un percorso di sostegno a quello che è il primo step per arrivare poi ai servizi. Grazie a tutti.